La terra torna a tremare. Ieri sera, poco dopo le 19.40, un nuovo sciame sismico con la scossa più forte di magnitudo 3.1, come registrato dai sismografi dell'INGV, osservatorio vesuviano, ha allertato gli abitanti della zona flegrea. Nessun danno segnalato, ma di nuovo l'apprensione da parte di migliaia di residenti. L'epicentro della scossa più forte è stato localizzato nella Solfatara, a poco meno di 3 chilometri di profondità. Un evento preceduto a seguito da altre due scosse di magnitudo di poco superiore a 1.4. Il boato, avvertito nitidamente nella zona alta di Pozzuoli, ha preceduto la scossa avvertita anche nel quartiere di Monte Ruscello. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha contattato subito il direttore dell'osservatorio vesuviano, Mauro Di Vito, e ha disposto alcune verifiche tecniche attraverso l'ufficio comunale di protezione civile e l'ufficio tecnico. Nessun problema riscontrato, a cominciare dalle scuole, che questa mattina sono tutte regolarmente aperte.